Grazie, grazie a lei, grazie agli organizzatori. Buongiorno a tutti. Vi chiedo 30 minuti, anche meno, di attenzione. Vorrei un po' raccontarvi del Competence Center 5.4.0 e di quello che oggi fanno in realtà otto Competence Center a livello nazionale. Vi anticipo che al termine di questa sessione, naturalmente siete i nostri ospiti al padiglione 7 stand H37, dove naturalmente potremo continuare anche con un veloce aperitivo per entrare eventualmente anche in qualche dettaglio. Allora, intanto il Competence Center, i Competence Center nazionali nascono per rispondere a un'esigenza oggettiva, quella prevalentemente delle piccole e medie imprese per aiutarle nella transizione verso il digitale, verso l'industria 4.0 e quindi nascono per realizzare concretamente quello che viene chiamato in gergo trasferimento tecnologico o maturità tecnologica. È un termine molto abusato e i Competence Center cercano di realizzarlo, questo trasferimento tecnologico, quindi non soltanto di parlarne, non soltanto di raccontare il potenziale dell'industria 4.0, ma di supportare l'implementazione, soprattutto nell'ambito delle piccole e medie imprese. E quindi completiamo un po', a valle di tutta l'operazione avviata nel 2017, il network che il Ministero dello Sviluppo Italiano ha favorito per supportare appunto il territorio. Quindi veniamo a valle dei PID, piuttosto che dei Digi Innovation Hub nazionali e quindi abbiamo attraverso un bando definito questi otto, sono stati definiti questi otto Competence Center. Otto Competence Center che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e nascono attorno alle più importanti università del territorio, quindi stiamo parlando di Politecnico di Torino, Politecnico di Milano e così via. Insomma, gli otto Competence Center, dico ahimè, sono prevalentemente baricentrati al centro nord, se non addirittura al nord. Tutti noi auspichiamo anche magari una maggior diffusione, anche magari col nostro supporto. Ognuno di noi ha una sua specializzazione, ha una sua vocazione, tutti assieme supportiamo il territorio nazionale. Quindi anche se la sede del CIM è a Torino, il MEI da sede a Milano, naturalmente non dobbiamo vederci esclusivamente o esclusivi per quei territori, ma in realtà rispondiamo all'esigenza dell'intero territorio nazionale. E come dire, rispondiamo in maniera complementare a quanto già fa oggi sul fronte della ricerca applicata all'università. Quindi noi, sulla scala del TRL, non ci occupiamo di tutto, non possiamo occuparci di tutto, ma abbiamo, come dire, un mandato chiaro. Noi dobbiamo occuparci della maturità tecnologica, quindi di sviluppare, partendo dal proof of concept, un prototipo, partendo da un prototipo un prodotto, partendo da un prodotto un servizio, ma dobbiamo sempre spingerci velocemente verso il mercato. Parliamo adesso di CIM. Il CIM ha una grande fortuna, quella di essere non solo coordinato da una delle più importanti università nazionali, quindi dal Politecnico di Torino, ma quella di essere sostenuto da 23 imprese importanti, leader sia tecnologici che di filiera, grandi gruppi, li vedete in questa chart, sono 23, tutte importanti e tutte, diciamo, molto supportive, cioè veramente ci hanno fatto fare il salto in questi primi due anni di attività. E la cosa più bella che vorrei portare a tutti voi è la testimonianza che si può fare squadra tra Accademia e Industria. Noi abbiamo realizzato il Competence Center, diciamo, con base a Torino in due anni, grazie a una veramente forte collaborazione tra queste due entità. Da soli né università né imprese avrebbero potuto sviluppare quello che è stato sviluppato e che avrò poi il piacere di presentarvi. Naturalmente supportiamo tante filiere, la nostra più importante filiera o le più importanti filiere che ci contraddistinguono rispetto agli altri sette Competence Center e l'automotive e l'aerospace. È chiaro che non possiamo trascurare comunque l'esigenza di molte aziende che si rivolgono da noi e che appartengono ad altre filiere produttive o, come dire, attività trasversali a più filiere produttive. Altra chart a me cara, questa che chiarisce bene quello che fanno i Competence Center. Noi andiamo oltre la Open Innovation. Si è sentito parlare di Open Innovation in tanti ambiti, da tanti anni. Si è partiti da centri di ricerca importanti, delle corporate che lavoravano in maniera molto chiusa e un po' limitante. Oggi siamo andati oltre. Noi favoriamo non solo la Open Innovation ma anche la contaminazione tra settori diversi e questa è una unicità. Cioè noi riusciamo a trasferire soluzioni, non tecnologie, soluzioni dall'aerospace all'automotive e viceversa piuttosto che dall'automotive all'agri-food. E questo è il vero successo di questa iniziativa. Poi parliamo di persone, perché se si parla di Competence Center non si può prescindere dalla vera differenza rispetto ad altri enti, alle altri ambiti. E' quella dell'eccellenza disciplinare. Noi siamo ricchi di ragazzi giovani, specialisti, senior specialist che arrivano dalle imprese, professori universitari che per definizione nel loro ruolo gestiscono e garantiscono l'evoluzione della scienza e della competenza. E facciamo squadra, quindi non siamo 10, non siamo 20, siamo decine di persone che ogni volta rispondono a problemi specifici che ci vengono dati dalle imprese. Abbiamo asset importanti, abbiamo investito tantissimo, in particolare come C in 4.0 per sviluppare due linee pilota, una dedicata alla manifattura additiva e l'altra dedicata all'implementazione del digitale per la fabbrica 4.0. E poi abbiamo degli uffici naturalmente, perché al di là dei meeting in virtuale, in digitale, come dire, vale sempre la pena incontrarsi fisicamente, incontrarsi presso di noi, incontrare le imprese presso le loro fabbriche, perché solo così poi si capisce, si può toccare con mano il vero problema, le vere esigenze delle imprese e degli imprenditori. La cosa bella nell'ambito della manifattura additiva e della digital factory è che noi non scegliamo le tecnologie, tutte le tecnologie disponibili a scaffale le usiamo, ma non le promuoviamo, noi portiamo soluzioni e queste possono essere sotto forma di un concept, possono essere sotto forma di una fattibilità, sotto forma di un prototipo o addirittura di una vera e propria produzione di nicchia. Questo vale sia per l'hardware, sia per il software e naturalmente in quanto hardware anche per la manifattura additiva. E quindi accompagniamo le imprese nelle diverse fasi. Noi quando interloquiamo con le imprese cerchiamo di capire il problema, cerchiamo di rispondere in termini di fattibilità, di opportunità di business, promuoviamo eventualmente dei casi test, dei prototipi e siamo anche disponibili eventualmente su richiesta ad accompagnare l'impresa sino all'implementazione industriale. Parlavo prima di linee pilota, noi abbiamo la fortuna di essere all'interno delle strutture del Politecnico di Torino e la fortuna qual è? Quella di vivere con i ragazzi giovani, con gli studenti, coi tesisti, coi tirocinanti che praticamente frequentano le aule accanto al Competence Center. Quindi siamo inseriti in un ecosistema che è quello della formazione universitaria. Abbiamo soltanto la difficoltà legata alla doppia sede perché abbiamo dovuto implementare la linea additive in un edificio più adeguato per uno sviluppo industriale, ma a 650 metri diciamo due minuti in macchina, cinque minuti a piedi si può andare da una parte all'altra dello stabile. Parliamo di manifattura additiva, è la nostra alta specializzazione. Noi ci siamo portati a casa due tecnologie, grazie al Politecnico di Torino abbiamo accesso alla roadmap tecnologica e quindi a molte più tecnologie sotto il cappello della manifattura additiva, ma queste due ci appartengono perché abbiamo sviluppato i nostri macchinari garantendo l'accesso quindi alle imprese per la tecnologia a letto di polvere e la tecnologia a deposizione diretta di energia o di materiale. Perché riteniamo che queste siano nell'ambito della manifattura additiva, metallica, le tecnologie più utili oggi per le aziende e il risultato lo si vede anche dai contratti, dai servizi che stiamo già erogando. Naturalmente per poter rispondere al tema del trasferimento tecnologico, dello sviluppo processo, dello sviluppo prototipo, noi dobbiamo avere dei macchinari a disposizione, non possiamo utilizzare i macchinari di altri e soprattutto dobbiamo renderli disponibili alle imprese. Siamo credo l'unico centro aperto alle piccole e medie imprese anche per applicare nuovi materiali, sviluppare nuovi processi e sviluppare le produzioni. Abbiamo per il letto di polvere macchinari che consentono di incrementare la produttività ma anche le dimensioni degli oggetti. Possiamo applicare moltissime delle leghe più utilizzate oggi nella manifattura additiva, dalla lega di acciaio, dalle leghe base acciaio alle leghe diciamo di alluminio e sino al titanio. E poi abbiamo un'importante macchina che ci consente di applicare appunto la seconda tecnologia per riparazioni, per completamenti e anche questa è stata una sorpresa. Il comitato scientifico ha individuato queste due tecnologie e devo dire che se guardo oggi ai clienti, alle richieste che stiamo ricevendo dalle imprese, entrambe rispondono a delle esigenze effettive. E qui sul tema della manifattura additiva è importante quello che ho riportato in questa chart, che abbiamo riportato in questa chart. Quando si parla di manifattura additiva, lo insegna il professor Giuliano, che è il nostro presidente, che qui con noi non è che bisogna pensare che è la panacea di tutti i mali, non è che è la soluzione per tutti i problemi. Bisogna partire con i piedi per terra, bisogna analizzare se effettivamente porta del valore aggiunto ma per valutare se porta del valore aggiunto io non posso prescindere dall'intero ciclo di vita di un prodotto e quindi devo analizzare l'impatto sul business che l'additive manufacturing mi può portare, mi può aggiungere. E quindi devo analizzarlo nella fase di sviluppo prodotto, nella fase di produzione ma anche nella fase di after sales, compreso anche la gestione dei componenti di sostituzione. E' chiaro che noi abbiamo, come dicevo, la fortuna di accedere a competenze che arrivano nei nostri consorziati e quindi ci portiamo dietro un background che non è soltanto di competenze ma anche di casi applicativi che hanno avuto successo e che sono stati realmente poi applicati già nell'industria, dall'aerospace all'automotive. Poi abbiamo colto una bellissima opportunità che ci è stata offerta ancora prima di completare la linea pilota, eravamo proprio agli inizi, è stata quella di sviluppare il premio del Torino Film Festival, il nuovo premio del Torino Film Festival. Qui abbiamo lavorato con una squadra composta da colleghi e professori del Politecnico e designer selezionati dal Torino Film Festival. Abbiamo concepito questo premio che nella prima edizione è stato presentato lo scorso anno e continueremo a fornire questi premi anche per gli anni successivi, proprio a promuovere anche la possibilità di trovare applicazioni dell'additive non soltanto nell'industria pesante ma anche in altri settori, quali quello sportivo piuttosto che quello del cinema. Parliamo di digital factory e qui vale la stessa cosa che abbiamo visto prima per l'additive, ossia noi abbiamo costruito una linea che adesso vi faremo vedere dove trovano spazio non espositivo ma spazio applicativo tutte le tecnologie, tutte quelle che possono essere le tecnologie che sono contemplate nell'ambito dell'industria 4.0 e quindi la realtà virtuale o l'X reality applicata per la manifattura, per la certificazione della qualità, per la manutenzione degli impianti oppure la cyber security per garantire l'accesso a dei dati in cloud piuttosto che la gestione di dati dall'esterno o l'esportazione di dati verso l'esterno e quella che è come dire ormai anche abusata come metodologia, quella dell'intelligenza artificiale che non viene semplicemente spiegata, non viene semplicemente dimostrata ma anche qui serve per incrementare produttività, incrementare la qualità di un prodotto, risolvere dei problemi e anche qui devo dire che le richieste che ci arrivano dalle imprese anche dalle piccole e medie imprese sono incredibili. La sostanza è che c'è fame di innovazione, c'è esigenza di migliorare la nostra industria, bisogna però incrociare le esigenze, domande e offerta e poi portarsi avanti con il lavoro. E in questo diciamo che il Competence Center ha una grande diciamo abilità, cioè quella di rendere accessibili anche da un punto di vista economico degli ambienti, dei tool che altrimenti non potremmo garantire alle imprese, soprattutto alle piccole e medie imprese. E per portare oggi testimonianza di quello che abbiamo sviluppato vado a commentare alcuni spazi, vi illustro un po' l'ambiente che abbiamo realizzato e che troverete in termini proprio di contenuti. Al di là del contenitore noi possiamo, voi potete diciamo in rete accedere a queste informazioni e credo che adesso vediamo tutte le informazioni che sono disponibili ed è possibile accedere all'interno delle nostre linee pilota trovando le informazioni da dove esistono, le abbiamo già rese disponibili. Qui vedete ad esempio una linea completamente digitalizzata dove produciamo un oggetto, oggi è uno skateboard, domani potrebbe essere una gearbox o altro ancora, per illustrare i vantaggi competitivi del digitale. Vedete qui gli spazi sono naturalmente spazi che abbiamo realizzato anche in termini estetici perché vogliamo trasmettere anche un concetto importante, non necessariamente deve essere grigia la linea di produzione, la linea di produzione può essere anche oltre che salubre e sicura anche bella. Abbiamo degli ambienti allo stato dell'arte, qui vedete un cave ad elevate prestazioni e anche dimensioni dove è possibile realizzare delle immersioni vere in 3D, avere un feedback estetico e acustico di assoluta precisione. La si può utilizzare per lo sviluppo prodotto, per lo sviluppo di linee produttive, anche per attività di marketing, operazioni di marketing. Questi laboratori naturalmente ripeto non sono laboratori esclusivamente di utilizzo dei ricercatori universitari, ma sono laboratori disponibili per la prima volta grazie a questa operazione degli Otto Competent Center alle piccole e medie imprese. Se andiamo adesso a vedere invece l'altra linea pilota, quella della manifattura additiva, vedete che qui invece gli impianti sono impianti rappresentativi di una realtà industriale vera, cioè le imprese possono venire da noi a affittare delle competenze, affittare degli spazi, affittare delle macchine e realizzare all'interno di questi laboratori anche delle piccole serie, delle piccole produzioni. Qui abbiamo ad esempio, stiamo entrando nella linea della DID, di una delle macchine più importanti anche in termini proprio di dimensioni, è una tecnologia che sta trovando molto interesse, su cui abbiamo già fatto delle applicazioni per la nautica, per l'oil and gas, perché questa tecnologia si presta anche grazie all'alta produttività a essere sostenuta economicamente senza grandi investimenti da parte delle imprese. Ricordo che questa seconda tecnologia può essere anche usata non soltanto per sviluppare oggetti ex novo, ma per anche completare degli oggetti. Quindi posso incrementare la durezza di una superficie, posso completare un componente di un'automobile aggiungendo delle nervature, posso anche riparare grandi stampi. Abbiamo anche una zona di post processamento, perché vogliamo garantire il processo, il risultato metallografico e quindi la qualità del risultato. Non la vorrei chiamare neanche produzione, perché poi alla fine noi sviluppiamo, ripeto, soluzioni per i nostri clienti. Tornando invece alla presentazione, quindi vi invito naturalmente a venirci a trovare a Torino per prendere poi confidenza, perché quello che noi notiamo è che guardando le tecnologie che risolvono dei problemi, poi non c'è bisogno di un traduttore, ci si capisce immediatamente. Andando avanti, quindi volevo parlarvi di un'altra azione importante dei Competence Center, che è quella dell'upskilling e del reskilling dei dipendenti. L'Italia soffre oggi di una popolazione di dipendenti che è rimasta, diciamo, mediamente, al passo con l'evoluzione tecnologica. Quindi i Competence Center, i Competence Center, si fanno anche promotori di un'azione di formazione ai dipendenti di varia natura, di tipo tecnologico piuttosto che manageriale e quindi per questo motivo qui abbiamo sviluppato al CIM un Learning Hub, dove è possibile scegliere la tecnologia e scegliere il percorso più o meno approfondito di formazione, oppure un'Academy, dove con 350 ore è possibile abilitare i manager di nuova generazione, quelli che devono garantire la trasformazione, il cambio di passo all'interno di un'impresa sotto il profilo del digitale. Ecco, la cosa importante che vorrei sottolineare è la peculiarità di questa offerta. Questa offerta formativa io credo che ha una distintività rispetto ad altre offerte disponibili oggi sul territorio internazionale, quella di mettere a fattor comune le competenze e le specializzazioni dei docenti universitari o dei ricercatori universitari con le esperienze e i fatti concreti implementati all'interno delle migliori imprese e quindi i technical fellow delle imprese che costruiscono assieme al docente universitario il miglior percorso di upskilling e reskilling sull'industria 4.0. Faccio spesso questo esempio ma perché è carino da raccontare. Spesso si parla di formazione sull'intelligenza artificiale. Io credo che ognuno di noi abbia un vicino di casa esperto in intelligenza artificiale. Ebbene, noi abbiamo ritenuto opportuno che per trasferire queste informazioni a un dipendente la cosa migliore fosse quella di mettere assieme un docente universitario specializzato nell'intelligenza artificiale per garantire il meglio delle metodologie e dello stato dell'arte e chi oggi nelle imprese sta applicando, nelle migliori imprese, quelle più all'avanguardia da un punto di vista tecnologico, questa tecnologia. E quindi, ad esempio, il corso di intelligenza artificiale del 5.4.0 sia come Learning Hub o modulo della Academy, della 5.4.0 Academy, è realizzato dalla professoressa Caputo del Politecnico di Torino e da altri suoi colleghi e dal Senior Technical Fellow di tale Salenia Space che applica quelle tecnologie oggi per lo sviluppo delle missioni, diciamo, spaziali a cui è chiamato. Il Senior Technical Fellow di Thales, Alenia Space, rappresenta, come dire, il meglio che oggi l'industria può promuovere perché è riconosciuto a livello internazionale come il maggiore esperto applicativo di quella disciplina. Ecco, la nostra formazione è costruita su tutte le discipline dell'industria 4.0 con questa, diciamo, formula. Quindi, combinazione ottimale del docente universitario, ricercatore universitario e Specialist, Senior Specialist o Technical Fellow dell'impresa. E quindi possiamo garantire o rispondere ai fabbisogni delle imprese. C'è chi ha bisogno lo specialista, c'è chi ha bisogno di pillole da diffondere a più risorse possibili, oppure di un nuovo manager che possa cambiare passo o far cambiare passo all'azienda. Noi abbiamo già avviato due classi, la prima è stata completata, la seconda si completerà a fine anno, con 25 alunni e poi sono manager di impresa, prevalentemente di, diciamo, grande impresa, ma molte partecipazioni anche di piccole e medie imprese. E poi abbiamo deciso di affidare, attraverso il supporto di Federmanager, anche delle borse di studio, a manager in ricollocamento, quindi in fase di ricollocamento. Quindi, test before invest, formazione, e la cosa che forse interessa anche alle imprese è il supporto ai progetti di maturità tecnologica, ai progetti di trasferimento al mercato. Il Ministero dello sviluppo economico ci ha affidato delle risorse a tutti e gli otto competence center, quasi tutte queste risorse sono state già attribuite attraverso dei bandi pubblici, in particolare noi ne avevamo a disposizione 3,4 milioni, con dei bandi, abbiamo supportato 33 progetti con le aziende che vedete qui illustrate in questa chart e soprattutto, messaggio importante, non esclusivamente aziende vicine a Torino, del territorio piemontese. È chiaro che, lo dico in maniera molto onesta intellettualmente, l'avvicinanza aiuta a capirsi meglio, a rispondere meglio, soprattutto sull'offerta formativa. Non nascondo che le classi che noi abbiamo abilitato per l'academy erano prevalentemente, non esclusivamente, ma prevalentemente fatte da manager che vivevano o lavorano in Piemonte, quindi qualcosa bisogna ancora migliorare, però questa è testimonianza del fatto che già oggi i competence center, effettivamente al di là della diffusione nazionale, agiscono in maniera, come dire, territoriale. Ancora quattro minuti, allora due concetti importanti. I competence center stanno realizzando il loro programma, sono a buon punto. Riporto i commenti di molti stakeholder o comunque personaggi importanti della politica nazionale che riconoscono la concretezza dell'azione degli otto competence center, indipendentemente da chi ha avviato l'operazione o chi la sta gestendo oggi. I competence center hanno dimostrato di saper mettere a terra i progetti, le risorse, stanno rispondendo diciamo prontamente alle richieste delle piccole e medie imprese, ma fanno anche qualcosa di più. Stanno cercando, almeno alcuni di noi stanno cercando di supportare anche la coesione territoriale per rispondere al bando dell'European Digital Innovation Hub, bando che di imminente pubblicazione, favorirà l'ingresso nell'ecosistema europeo dei territori nazionali. Quindi il competence center 5.4.0, così come altri competence center, sta sviluppando una proposta dedicata alla regione Piemonte-Valle d'Aosta, quindi territoriale, perché questo viene richiesto dall'Europa, mettendo a fattor comune non solo le proprie abilità, ma anche le abilità di altri soggetti importanti che operano già a livello territoriale. Parliamo ad esempio delle azioni di Confindustria attraverso i Digital Innovation Hub o delle camere di commercio attraverso i PID. Parliamo anche di centri di ricerca applicata come l'INX sul Piemonte, piuttosto che istituti di credito, perché quello che devono fare questi signori è rispondere ai fabbisogni definiti in Europa rilevanti per le imprese. Testi before invest, formazione, supporto finanziario e gestione naturalmente del networking. E quindi questa è l'iniziativa che noi come CIM, ripeto, altri competence center in altre regioni italiane stanno portando avanti, facendosi quindi portavoce di un'azione richiesta dal Ministero dello Sviluppo Economico. Poi alcuni di noi stanno già lavorando nel frattempo a supportare i territori. Noi abbiamo sviluppato in collaborazione, anzi coordinati dalla città di Torino, l'azione che implementa alcuni casi d'uso del 5G in vari settori. Naturalmente noi portiamo la voce dell'industria 4.0. E infine un'altra azione che ci ha visto protagonisti sul nostro territorio per la costituzione di un polo nazionale per la mobilità sostenibile assegnato a Torino, che oggi Torino, guidato dal Politecnico di Torino, sta portando avanti e sta portando avanti per una filiera allargata, quella della mobilità sostenibile, che non è solo automotive e anche, come dire, produzione di treni piuttosto che di imbarcazioni, ma soprattutto supporto a tutte le innovazioni tecnologiche, dal powertrain elettrificato alla connectivity, alla circular economy, ai servizi e alla progettazione dell'intero sistema per la mobilità. Lo stiamo facendo lavorando a stretto contatto con dei leader di settore, TR1 e molti provider dall'energia alle telecomunicazioni. Ecco, progetto europeo su cui passo velocemente, nel senso stiamo già cercando di portare l'ecosistema nazionale in Europa attraverso la partecipazione ai vecchi bandi e lo faremo anche con i nuovi bandi. Con questo ho concluso, scusate se sono andato velocemente, ma ci tenevo insomma a trasferire questa volontà di metterci a disposizione delle piccole e medie imprese e di tutti quelli che vogliono in qualche modo essere attori della transizione verso l'industria 4.0. Grazie a tutti.